poi scrivete in italiano così capiscono tutti sentite un attimo, il tempo è limitato qui è più o meno quanto dura un brano musicale dovete fare in tempo a scrivere e noi tutti vi sosteniamo pronti? ma certo, certo, certo pronti? via! e i testimoni li chiediamo di essere vicini qua intanto noi partiamo con un grandissimo applauso per le spose scrivi, scrivi bravo, bravissimo! edoardo, concentrati edoardo facciamo un applauso dai per il coraggio avviva avviva gli sposi signori, ricordatevi il 31 ottobre 2012 è il bellissimo e unico matrimonio di questi bellissimi signori edoardo edoardo e tatiana e viva sei curiosi di leggere quello che hanno scritto uno per l'altro non c'è curiosità durerà un anno intero perché queste lettere perché queste lettere vengono conservate dai testimoni esattamente fra un anno quando festeggeranno il primo anniversario del loro matrimonio apriranno queste lettere e sentiranno quello che hanno sentito in questo momento quello che non sono riusciti a scrivere possono dire uno all'altro all'orecchio ballando il prossimo bravo il prossimo è 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 Io e te, 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 in questo amore più profondo. Io e te, 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 io e te Ma, forse chiederei aiuto a mare, nelle notti per non morire, ma non voglio pensarci ora, che sei tu in me e la giocamola. E io e te, come noi nessuno al mondo, e io e te, in questo amore più profondo, e io e te, cambio verde, cambio vita, e io e te, per noi non sarà mai vita. Io e te, come noi nessuno al mondo, e io, di questo amore più profondo. Grazie, grazie! 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 E per tutti i ragazzi con una melodia bellissima! Burca! Vai, vai, vai! Vai, vai! E per tutta lumea! Sus! Sus! Tape! Sei! Eee! Eee... Eee... ... Eee... ... ... ... ... Grazie a tutti Muroca, tu è il mio figlio! Muroca, marishertima in多i i fazioni di scansione. Muroca, tu è il mio figlio! Muroca, tu è il mio figlio! Muroca, marishertima in多i i fazioni di scansione. Ora, si tratta i'avance, No tu è mio figlio, Murkha, ma ne servisimo, ma presto di l'ubile, ma... Maia, maia, Murkha, tu è mio figlio, Murkha, tu è mio figlio, Murkha, ma ne servisimo, ma presto di l'ubile, ma... Riturina è un gloria, il... che un qiuo, ma un gloria, di l'ugura, che un gloria, che un gloria, se c'è stato il giurisimo, ma la luce nel aspetto, lui, lo, lo, lo... oh, 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 oh... che un riso... maia, murkha, maia, murkha, a meia, maia, murkha, maia, è... il piaccio, maia, come... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti